Benvenuti nel canale delle notizie napoletane. Qui troverai gli ultimi aggiornamenti su squadra, giocatori e trasferimenti. Non perdere nessuna notizia e iscriviti ora per ricevere le notifiche dei nuovi video. E non dimenticare di mettere mi piace ai nostri video per sostenerci e aiutarci a crescere. E ora veniamo alle notizie. Moussa Dembele Napoli, Chance Zero, gli agenti confermano i contatti. L'attaccante francese Lascellione, l'entourage avrebbe registrato l'interesse di Napoli e club di Ligue 1 e Bundesliga. Moussa Dembele occasione di mercato per il Napoli. Secondo Sky Deutschland, il club azzurro, Eintracht Francoforte e Marsiglia vorrebbero l'attaccante francese. La redazione di area Napoli.it ha raccolto conferme dall'entourage del giocatore, secondo gli agenti dell'esterno, il Napoli sarebbe interessato alla sua situazione, raccogliendo informazioni nelle ultime settimane. Ricordiamo che il contratto di Dembele con il Lione sta per scadere e in estate cambierebbe maglia a costo zero. Classe 1996, Dembele avrebbe compiuto 27 anni a luglio e porterebbe con sé un bel bagaglio internazionale. Punta veloce e bravo a comunicare con la squadra, potrebbe rappresentare un'opportunità a basso costo per chi ha bisogno di rafforzare il proprio reparto di punta. Il Napoli, per ora, spera di poter trattenere Victor Osiman, ma sta studiando possibili alternative, consapevole che Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone danno garanzie ma che va affiancato un partner affidabile in caso di partenza dell'attaccante nigeriano. Non dimenticare di iscriverti al canale di notizie del Napoli per gli ultimi aggiornamenti meteo. E se il contenuto ti è piaciuto, lascia il tuo like per supportare il canale e contribuire a diffonderlo a più persone. Il tuo supporto è molto importante per noi.